Settimana densa di appuntamenti legati al mondo dell'hip hop nella città metropolitana di Napoli. Il rapper Clementino ha incontrato presso il vulcano buono di No Life Fan, scattato selfie e firmato copie del suo ultimo lavoro discografico Vulcano, quinto album realizzato dall'artista che proprio nella zona ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica. Una fola di giovani si è invece radunata alla libreria Feltrinelli della stazione centrale di Napoli già qualche ora prima dell'arrivo del rapper Fabri Fibra. L'artista di Senigalli ha accolto i fan presentando il suo nuovo album Fenomeno a distanza di due anni dal precedente Squallor. Nono album in studio Fibra ha tenuto a sfoggiare una maglietta con scritto 90 in ricordo della formazione dei rapper italiani in quegli anni di fine secolo. Grazie. Grazie. Grazie.